In vista della giornata nazionale del ricordo del 10 febbraio istituita dal presidente della Repubblica Ciampi con la legge 30 marzo 2004, il presidente del consiglio Renato Finocchiaro e l'assessore alla pubblica istruzione di Sant'Alfio, Laurea Leonardi, hanno organizzato un incontro rivolto ai ragazzi delle scuole primarie. Giovanni Palatucci e giornata della memoria, questo il titolo del momento formativo informativo condotto dall'ispettore capo della polizia di Stato, Massimo Tranchida, nel corso del quale ha raccontato ai ragazzi la vita eroica di Giovanni Palatucci, appunto il commissario che durante l'emanazione delle leggi razziali del 1938 si schierò a favore dei cittadini ebrei. Le azioni di sostegno ai perseguitati gli costarono la condanna a morte per mano delle autorità tedesche. Presente all'incontro di questa mattina anche il presidente del comitato ionico 10 febbraio, una conferenza utile per gli studenti per tenere viva la memoria di quelle vergognose pagine di storia della nostra nazione è un'occasione di riflessione sul ricordo e soprattutto il sempre attuale monito dell'olocausto e delle foibe. Renato Finocchiaro ci spiega i motivi per i quali si è pensato di organizzare questo incontro. Oggi grazie al progetto realizzato in unione tra l'ufficio presidenza del consiglio comunale e l'assessorato alla pubblica istruzione abbiamo realizzato questa giornata sulla diciamo due tappe importanti stabilite dal governo nazionale che sono la giornata del ricordo e la giornata della memoria per cercare di spiegare ai bambini quello che è stato delle tristi pagine della nostra storia diciamo moderna del 1900. In questa conferenza coorganizzata quindi con tra noi ente comunale e la polizia di stato in particolare la questura di Catania tramite l'ispettore Massimo Tranchida siamo riusciti ad organizzare questo progetto spiegando anche l'alto valore eroico dell'ispettore Giovanni Palatucci, eroe di guerra. I bambini sono molto interessati, stanno ascoltando le parole dell'ispettore Massimo Tranchida, fanno molte domande, partecipano attivamente a questa discussione di ricordo e di memoria.